Tra le novità commerciali dell'estate ginosina, domenica è stata inaugurata in Viale Martiri Dungheria 205 la macelleria rosticceria di Edi Ruggeri. Dopo anni di esperienza nel settore, Edi realizza il suo sogno e il desiderio del suo papà. Edi è uno specialista della carne e dopo tanti anni ha deciso di mettersi in gioco, di aprirsi un locale tutto suo, con due sale, un'interna e un'esterna, che permette di passare una piacevole serata con amici e parenti gustando della ottima carne al fornello. Un vero e proprio emporio del gusto dove assaporare carni uniche pregiate, stando comodamente seduti al tavolo o facendo tranquillamente l'asporto. Si tratta di una vera e propria boutique della carne, in cui acquistare le migliori bistecche, salsicce, pollo, vitello, insieme a gustosissimi preparati di carne, come pancetta di maiale con pepone e sale, rotolo con speck, galbanino e spinaci, straccetti di pollo alla pizzaiola, tramezzino con cotto e galbanino, involtini per ogni gusto e tanto altro. Finalmente ho aperto la mia macelleria, il mio sogno si è avverato, vi aspetto a Ginosa, in Viale Martri d'Ungheria 205, con due sale interna e esterna, per degustare tante prelibatezze. A presto! Insomma, per gli appassionati della carne a Ginosa, c'è un nuovo punto di riferimento e si chiama EDI, macelleria e rossicceria. EDI si trova a Ginosa, in Viale Martri d'Ungheria a 205.